Usato garantito alla grosso vacanze della serie veicoli oggetto del desiderio, un Elnag Baron 450 su Ducato 2003, 130 CV, unico proprietario del 2015 con porta moto, garage naturalmente, letto basculante, omologato per il trasporto di 5 persone e 5 posti letto, adatto sia alla famiglia che alla coppia. Poiché il veicolo è del 2015 gode ancora della garanzia ufficiale cellula fino al 2020 e per il resto ci pensiamo noi con una garanzia valida in tutta Europa con un numero verde ripeto sempre senza franchigia. Questo veicolo può essere vostro a soli 42.900 euro e può essere finanziabile sull'intera cifra fino a 120 mesi con un tasso pari al nuovo. Veniteci a trovare! Grazie a tutti!